Musica Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso Buon pomeriggio da parte di Cristian Siciliani Ci avviciniamo alla sfida di sabato sera tra Bari e Fiorentina Diversi gli argomenti di discussione Dal dubbio Barreto alla questione trasferta per quel che riguarda i tifosi biancorossi Allora vi presento subito il mio ospite che è l'allenatore Marcello Chiricalo Buon pomeriggio Marcello Buon pomeriggio a tutti Vi ricordo anche il numero per intervenire in diretta 080 501 9998 Come giovedì scorso oggi vi chiediamo di sostituirvi a Mister Ventura Indicarci anche l'undici ideale in vista della sfida contro la Fiorentina Allora partiamo dalle ultimissime con le condizioni di Barreto Il giocatore brasiliano questa mattina si è sottoposto a degli accertamenti Dopo la botta alla Caviglia subita ieri in allenamento Beh accertamenti che hanno escluso fratture per quel che riguarda l'attaccante brasiliano Resta comunque una forte botta Oggi il giocatore lavorerà a parte Quindi è in forte dubbio per la trasferta di Firenze Molto dipenderà anche dalla volontà del brasiliano di scendere in campo Marcello questa potrebbe essere un'assenza davvero pesante Sì credo di sì perché in questo momento Barreto Magari più gli attaccanti a disposizione di Ventura è quello più prolifico Quindi è normale che la mancanza di un giocatore come lui In particolar modo fuori casa sicuramente si farà segnare Ma bisogna dire che il Bari in questo momento ha segnato solo sei reti Tre le ha realizzate proprio Barreto Di cui due su calcio di rigore Intanto abbiamo un primo ascoltatore in linea Pronto? Benvenuto l'ospite Pronto? Pronto sì ti sentiamo vai Ciao allora senti io prima di fare il mister Venture Quindi dati la formazione Sì Volevo fare una considerazione Vai Sono dispiaciuto che era il momento orno della squadra Però permettimi gli aggettivi Non ridito per le critiche distruttive che sono diventate a questa squadra Perché insomma dire ormai ci conoscono come se allenatori come Del Neri Mazzarri o magari l'allenatore del Brescio O meglio Gasperini perché al primo tempo al Germano gli abbiano dato una bambola Non ce lo dimentichiamo Come se queste squadre e queste allenatori non ci conoscevano E quindi critiche del tipo devono cambiare modulo Bisogna fare qualcosa Oppure addirittura essere d'accordo con le previsioni del mago Nicola Che dice il Bari in Serie B E' come prevedere che Inter e Milan permettano di uno Cristiano Faranno fatica a qualificarsi dei primi quattro E poi chiaramente per la formazione Io dico Gile A destra Belmonte Masiello Parisi Salvatore Masiello Il ritorno di Alvarez Perché credo sia imprescindibile per questa strada Domenica Certo ci sarà L'abbiamo visto domenica Almiron Donati Abbiamo perso il nostro ascoltatore Mentre annunciava la sua ipotetica formazione Marcello si parla tanto di un Bari che dovrebbe diciamo In un certo senso trovare delle alternative di gioco Abbiamo visto come Reia abbia in qualche modo imbrigliato Ventura Domenica scorsa Questo nasce ovviamente dal fatto che Tutti quanti poi piano piano iniziano voglio dire a conoscere il gioco del Bari Magari tentano delle contromisure Io mi leggo un po' a quello che ha detto anche il tifoso da casa Non credo che sia giusto Che queste polemiche possano essere utilizzate in maniera così indiscriminata Proprio perché credo che il Bari ha la potenzialità quest'anno di raggiungere l'obiettivo che si è prefisso Bisogna anche tener conto che ci sono dei momenti nel corso del campionato Dove le cose magari possono anche non andare tanto bene Però l'importante è credere in quello che stanno facendo Perché la società credo che già nel discorso dell'allenatore ha dato una continuità E oltre al discorso della continuità nei confronti di Ventura Che ha dimostrato il suo valore come tecnico È giusto pure capire che magari il Bari sulla scorta dell'entusiasmo delle ultime due stagioni Magari deve attuare un percorso che è un percorso graduale Quindi sicuramente ci possono essere questi alti e bassi L'importante è che il tifoso barese ragioni con un certo equilibrio Perché nei momenti di difficoltà solo avendo equilibrio anche nei giudizi Si potrebbe secondo me ritornare su quello che è Non dico il Bari visto con la Juve e con il Nappe Però una squadra che magari ritrova la via del gol e subisca meno Intanto una precisazione per quel che riguarda la trasferta di Firenze Il prefetto di Firenze ha vietato la vendita dei biglietti Ai non possessori della tessera del tifoso Solo per quel che riguarda la curva Fiesole e la curva Ferrovia Dunque i tifosi del Bari che hanno acquistato i biglietti di tribuna maratona Possono accedere tranquillamente allo stadio Quindi nessun allarmismo, trasferta non vietata Quindi si può andare tranquillamente a Firenze Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? 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 Pronto, mi sente? Sì, vai Buongiorno, senta, io sono un vostro vecchio ascoltatore, sono Riccardo Ciao Riccardo Non chiamo quando c'è il suo collega perché ha l'abitudine di chiudere le telefonate Di non far parlare, mentre con lei si ha un po' più di spazio Questa è tutta la verità Se mi permettete di dire una semplicissima cosa C'è niente di particolare Non scaricate le colpe su Ventura, il gioco si conosce, quello lì o quello là È una squadra debole Cioè se voi fate televisione, voi siete giornalisti o portate persone lì che sono condenzienti ogni giorno a questo tipo di tiritera Sbagliate, voi dovete dire alla gente che capisce di calcio che questa è una squadra debole Abbiamo una difesa che è debolissima rispetto all'anno scorso È un attacco che non esiste con il solo Ghezzal che già era in deficit l'anno scorso Se volete fare una trasmissione seria, senza offendere nessuno Dovete dire che questa squadra è debole Ci vogliono rinforzi Non Ventura Ci conoscono o non ci conoscono Grazie, grazie Riccardo Grazie per il tuo intervento Beh, Marcello che a questa squadra possa mancare qualcosa è sotto gli occhi di tutti Ovviamente è stato ammesso l'errore di non comunque acquistare un difensore centrale E poi effettivamente qualcosa in attacco manca a questa squadra perché abbiamo detto in precedenza Se viene meno Barreto non tutti riescono a vedere la porta Ma io rispetto a quello che ha detto il primo telespettatore Volevo far capire che è necessario avere maggiore equilibrio Questo non vuol dire che avere maggiore equilibrio Uno non si rende conto se effettivamente quest'anno la rosa dei calciatori del Bari Sia a livello qualitativo inferiore magari rispetto a quello dell'anno scorso Ha ragione chi ha chiamato perché nel momento in cui si parla del reparto difensivo È inutile nascondere che Bonucci e Ranocchia sono due giocatori di uno spessore Probabilmente superiore a quelli che attualmente il Bari ha nell'organico Per quanto riguarda l'attacco anche l'anno scorso c'erano alcuni problemi Magari un po' coperti dalla prolificità di Barreto Anche se io stimavo molto Meggiorini perché era un giocatore che secondo me poteva Magari crescere ancora di più Però è normale pure ci rendiamo conto che il Bari ha bisogno di un attaccante Di un centrale difensivo E poi se proprio vogliamo entrare anche sotto l'aspetto magari tattico Cercare forse per quello che potrebbe essere il mio pensiero Di avere un giocatore E ho visto che in estate comunque il Bari ha tentato in tutte le maniere di prendere Giovinco Un giocatore che abbia un po' di fantasia Per ovviare ovviamente proprio al discorso che nel momento in cui i due esterni del Bari Che sono comunque giocatori importanti come Alvarez Vengono magari raddoppiati Quindi c'è poco sfogo sulle face Magari avere un giocatore che possa dare una soluzione di gioco diversa Ci dobbiamo fermare un attimo Pubblicità a tra poco con il bianco e il rosso TB Sport